Pietro Luisi, originario del quartiere Santa Maria di Gesù, ha fatto carriera in Cosa Nostra, divenendo un elemento di spicco di quel mandamento e del limitrofo di Brancaccio. A testimoniarlo sono le mansioni assunte da Luisi, considerato l'uomo della cocaina, capace di tessere i contatti con le grosse famiglie dell'Andrangheta e di far pervenire nel capologo siciliano grosse quantità di cocaina da destinare, per esempio, al mercato della vucceria. Documentata una trattativa condotta in prima persona da Luisi per conto dell'importante famiglia mafiosa di Corso dei Mille, con la famiglia Barbaro di Platì. Da quando era sfuggito alla cattura sono state avviate verifiche su familiari e conoscenti di Luisi. Quelle indagini, a distanza di alcuni mesi, hanno condotto i poliziotti in un condominio di via Roccoiemma, dove alcuni familiari di Luisi sono stati visti entrare con dei sacchetti della spesa. Il cerchio si è ulteriormente ristretto quando i poliziotti, che hanno fatto finta di essere inquilini dello stabile, hanno registrato la presenza in un appartamento del quarto piano di alcuni conoscenti, pregiudicati e frequentatori in passato di Luisi. Nelle prime ore della mattinata è scattato allora il bliz, che ha sorpreso Luisi e altri due favoreggiatori dell'appartamento, Gioacchino Cusimano e il figlio Eros. Anche gli altri due occupanti sono stati tratti in arresto per il reato di favoreggiamento.